Oggi la cerimonia per i 25 anni della Fondazione Lucana Antiusura. A Matera si è parlato innanzitutto della piaga del gioco d'azzardo. Per noi c'era Rino Cardone. Una cerimonia, quella del 25esimo anniversario della nascita della Fondazione Lucana Antiusura Monsignor Vincenzo Cavalla di Matera, alquanto intima. Pochi infatti i presenti, per lo più rappresentanti di associazioni dei consumatori e fondazioni materane. Una cerimonia e non una celebrazione, svolta nella chiesa parrocchiale di Sant'Agnese, compita e pacata nei toni, ma dura quando necessario, specie nell'intervista rilasciata alla TGR da Don Basilio Gavazzeni, per richiamare tutti a un maggior senso di responsabilità nella prevenzione di ogni crimine, iniziare dall'usura e per dire basta al gioco d'azzardo e su cui le istituzioni dovrebbero intervenire con un cambio di passo della normativa vigente. Per esempio l'abolizione del cosiddetto distanziometro, cioè quello di accorciare da 500 metri a 100 metri quelle strutture, quegli angoli riposti, oscuri, ben occultati, dove chiunque può accedere a giocare. Questa insomma è una società delle apparenze dell'ipocrisia. Senta quanto ipocrisia vuole che le aggiunga che mentre noi siamo qui, senza fare troppo rumore a celebrare questa cosa, questo convegno non autoreferenziale, a Matera il 18 novembre il delinquente Ergastolano è stato usannato, covato, accarrezzato per un suo libretto di memorie sul suo padre. Ma costui, convertito e redento, chiede scusa a noi vittime? Io ho solo una bombetta di un chilo di tritolo, ma chi ha avuto dei morti? Gli educatori del carcere non glielo dicono di chiedere scusa prima di presentare un libro? Gli educatori del carcere non glielo dicono di chiedere scusa prima di presentare un libro?